Irina Shayk Irina Shayk racconta, In una vita precedente sono stata un uomo Pelle scura, occhi verdi e una fermezza nel carattere che non si vede spesso in ragazze così giovani, Irina Shayk, anche oggi che è tra le top model più famose del mondo, non dimentica mai il suo passato Così la compagna di Bradley Cooper si è raccontata con la stampa e ha affermato di essere stata un uomo in una delle sue vite precedenti Il motivo? Fin da piccola ha dovuto affrontare prove molto difficili, per prima la morte del padre, che l'ha messa nella posizione di dover aiutare la madre e la sorella maggiore Lei però ha sempre reagito con forza e determinazione, mostrando un lato decisamente maschile del suo carattere Irina Shayk crede nella reincarnazione Oggi tutti la conoscono come una delle top model più influenti e belle del mondo, ma prima di diventare Irina Shayk, si chiamava Irina Valerevna Eklislamova, veniva da una famiglia molto povera in cui il padre di origini tartare faceva il minatore, mentre la madre l'insegnante di musica Quando aveva 14 anni il padre morì, lasciando lei, la sorella e la madre da sole Fu in quel momento che iniziarono le sfide della vita di Irina e quella determinazione e forza che ha mostrato fin dal primo momento, non l'hanno più abbandonata La top model ha rivelato che aveva un rapporto speciale con suo padre, si assomigliavano molto sia fisicamente, sia a livello di carattere, mentre la sorella aveva un approccio più femminile alla vita Irina è sempre stata una donna determinata, che ha dovuto badare a se stessa, ma anche alla sua famiglia e che si è prefissata degli obiettivi molto alti, apparentemente irraggiungibili Eppure lei, che crede nella reincarnazione e pensa di essere stata un uomo nella sua vita precedente, li ha raggiunti tutti, dalla Russia ora vive in California, è una top model di successo, il suo compagno ha un sex symbol di Hollywood e la sua carriera va a gonfie vele Della donna che è oggi però, rimangono e rimarranno sempre quegli occhi verdi ereditati dal padre che affrontano ogni difficoltà con la forza che l'ha portata al successo Top model e madre Chi è oggi Rina Shaikh? Oltre ad essere una modella e testimonial del brand Intimissimi, è la compagna di Bradley Cooper ed è madre della piccola Lea De Seine Malgrado lei ami condividere la propria vita con i fan attraverso i social, su una cosa è molto rigorosa, la privacy della sua vita sentimentale Spesso nelle interviste chiede di evitare il discorso e addirittura la nascita della sua bimba, c'è voluto un po' di tempo prima che il nome venisse reso pubblico La Shaikh è una donna riservata, ma sa esattamente quello che vuole dalla sua vita, dalla famiglia e dagli amici Si è sempre rivelata felice della vita che ha avuto, malgrado le difficoltà iniziali e la sua provenienza da una famiglia povera, se avesse avuto tutto fin dall'inizio forse, non sarebbe arrivata ai suoi obiettivi La top model inoltre si è dichiarata una donna super organizzata, che riesce a gestire con facilità tutti gli impegni della giornata Non c'è dubbio che Irina Shaikh sia una persona speciale e i fan ora possono capire come abbia fatto a conquistare il singe più ambito di Hollywood Ciao!